Un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele grazie a tutti per il vostro aiuto per i commenti mi volete bene mi fa veramente piacere saluto Michele che mi ha chiesto di salutarlo e ci mancherebbe grazie a te che me l'hai chiesto ciao Michele volevo anche dirvi come chiaramente se mi seguite saprete da voi sono arrivato a 929 iscritti ma quanto sono contento grazie grazie ragazzi grazie con tutto il mio cuore adesso andiamo a vedere il numero 90 di questa splendida armatura lo so in realtà è uscito già il 91 però a me è stato consegnato soltanto il 90 quindi attenderemo il 91 speriamo la prossima settimana allora ragazzi procediamo subito all'apertura di questo nuovo numero queste come vi arriverà a casa sapete che io ne faccio diversi di iron man questo è un montaggio semplice ma nello stesso tempo bisogna porre molta attenzione per evitare poi possibili danni dettati a un aggancio non perfetto tra l'addome superiore e diciamo ecco l'addome inferiore andiamo comunque a vederlo adesso ragazzi allora qui andiamo giặc allora pezzo di metallo verniciato a polvere bellissimo non trovo alcun difetto di verniciatura plastica plastica e plastica bellissimi due serie di viti una kp ok ho messo l'immagine a fuoco e una IM questa con la M finale e con il colore nero va avvitata esclusivamente nel metallo e questa contraddistinta con il colore blu e la P di plastica va avvitata assolutamente nella plastica prima cosa da fare andiamo innanzitutto a leggere nello specifico quali sono i particolari che ci sono giunti con l'uscita numero 90 abbiamo la struttura interna dell'addome la piastra dei meccanismi dell'addome l'elemento di connessione addome torace e la struttura interna dell'addome eccola qui primo consiglio primo consiglio che mi permetto di darvi è quello di recuperare quattro viti kp e di andarvi a creare i filetti in uno due tre e quattro sedi in in questa maniera senza aggiungere olio senza assolutamente mettere grasso le mettete così perfettamente diritte e le avvitate fino in fondo fate la stessa cosa con tutte le altre tre e ci vediamo dopo come potete vedere con le viti kp siamo andati a metterci le quattro viti una due tre e quattro nelle sue sedi e abbiamo creato il filetto lasciamole così poi prendiamo due viti im e andiamo a crearci il filetto potete anche non bagnarne nel grasso queste perché si avvitano facilmente andiamo a crearci il filetto qui vedete che il segmento qui è aperto non da questa parte ma uno qui e una qui e andiamo ad avvitarcele fino in fondo quando sentiremo che la vite è arrivata in in fondo non insistiamo ci fermiamo vedete più di così non va giù perfetto a questo punto andiamo a prendere l'elemento di connessione addome e torace e andiamo a svitare le quattro viti kp prendiamo la struttura interna dell'addome questa in metallo e andiamo a mettere il meccanismo dell'addome nei suoi fori dedicati e andiamo a fissare tutto con le quattro viti kp prima le puntiamo e poi le stringiamo tutte alla fine mandate indietro di mezzo giro il vostro cacciavite e poi avvitate e ci vediamo dopo adesso controllate che tutto sia perfettamente aderente con il pezzo in metallo a questo punto andiamo a svitare le due viti im dove avevamo prima creato il nostro filetto quindi prendiamo l'elemento di connessione addome e torace e andiamo ad inserirlo dove qui è interrotto basta guardare le istruzioni che sono molto chiare e andiamo ad inserirlo oh 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 chiedo scusa ho fatto vi dico cosa ho fatto aspettate mi piace dire sempre la verità ho svitato per errore la vite che teneva l'addome in plastica invece di andare a svitare la vite im dove mi ero creato prima il filetto ma nessun problema abbiamo già risolto ecco qua perfetto mettiamo le due viti e ci vediamo dopo ragazzi a questo punto una volta fatte tutte le operazioni questo è quello che avremo nell'uscita numero 90 mentre invece la struttura interna dell'addome numero 2 dovremo conservarla e la useremo nelle prossime sessioni di montaggio allora adesso però Michele vi dà un consiglio guardate ragazzi un attimo solo come potete vedere qui stiamo montando qualche Iron Man allora qual è il consiglio che vi do adesso vi faccio vedere mettiamo un momento via questo e un consiglio che vale oro mi raccomando dovete innanzitutto controllare prima di inserire questo dovete controllare il sistema di sgancio che funzioni cioè che questa leva si muova correttamente fino in fondo diversamente non agganciatelo perché non lo potrete più tirare fuori ok ragazzi controllate che ci sia questo movimento vedete poi andrete ad inserirlo in questa maniera guardate e provate se aggancia perché perché questo poi dovrà sorreggere tutto il peso delle gambe che sono tutte in metallo lo sapete non che è questo quindi andiamo ad agganciarlo ecco qua guardate dovete tirarlo su e non deve assolutamente sganciarsi vedete aspettate un attimo che provo ad alzare un po questo così vediamo se ce la faccio a farvelo vedere meglio ok vedete il montaggio è già finito però questa è una prova che dovete assolutamente fare perché questo non deve potersi a sganciare soltanto premendo qua dietro deve potersi sganciare quindi io vado a premerlo tac e lui si sgancia vedete perfetto attenzione un'altra cosa perché vi può succedere se voi andando a inserirlo e premendo tutto quello che potete lui non andrà comunque a sganciarsi non entrate nel panico fate così prendete un cacciavite un po lungo più sottile meglio è se ha la parte a taglio invece che a croce ancora meglio ma vi faccio vedere che funziona anche con questo e lo andrete ad inserire qui guardate qui andando ad alzare questo gancio qui lo inserite e lui si sgancerà da solo premendo qui e tenendo in pressione questo cacciavite che alza questa linguetta qui si sgancerà l'addome questo ragazzi ve l'ho soltanto detto nel caso dovesse accadervi che non riuscite più a sganciarlo ma è una prova che va fatta perché una volta che avrete montato tutto se dovete intervenire dovete poi smontare tutto va bene ragazzi ok adesso vi faccio vedere un'anteprima ho un po di difficoltà a tenerlo però guardate ragazzi dirvi che questa armatura non è fatta bene anche se ha avuto un po di problemi di funzionalità e stabilità che come avete visto abbiamo risolto insieme sarebbe dirvi una bugia io ho deciso di farne tre per me è una spesa ovviamente perché non è che insomma le cose si fanno se si possono fare io ho deciso per questa scelta di farne appunto tre perché ho capito e soprattutto ho deciso di fare poi una presentazione particolare di tutti e tre gli Iron Man detto questo ragazzi se avete intenzione di farlo fatelo perché è bellissimo bellissimo guardate guardate che meraviglia ovviamente funziona tutto perfettamente senza il minimo gioco guardate che bella mamma mia guardate le alette piegate adottate da Michele come anche nell'Iron Man nel film se vedete bellissimo ragazzi bellissimo guardate che magnifico che è bello va bene ragazzi andiamo a chiudere qui perfetto ecco qua andiamo a sganciare voilà deve essere duro se no per carità non va bene perfetto a questo punto iniziamo la seconda fase del video sapete che Michele ci tiene a permettere a chi non ha fatto l'armatura per una ragione o per l'altra di poterne leggere i contenuti scritti mi riferisco ovviamente all'interno del fascicolo quindi darò la possibilità a chi lo desidera non soltanto di guardare le immagini interne del nostro fascicolo ma anche di leggere tutto ciò che è scritto va bene ragazzi un abbraccio a chi deciderà di finire qua il filmato e ci vediamo adesso nella seconda fase però mi raccomando ragazzi i video o decidete di vederli tutti perché poi mi fate mille domande in privato e per carità io vi rispondo però ragazzi dovete guardarli i video perché se non li guardate per forza che mi chiedete che misura che cos'è questo che cos'è quello guardate i ragazzi va bene un abbraccio a tutti ci vediamo dopo eccoci pronti alla lettura del fascico numero 90 prima pagina servizi e numeri utili buona lettura ragazzi saluto anche Lorenzo il ragazzo che commenta sul mio canale andate a vederlo ha un canale anche lui su youtube è una persona molto reale come piacciono a me un bravissimo ragazzo e se avete piacere iscrivetevi anche al suo canale ve lo dico questo perché come vi ho appena sottolineato è davvero un bravo ragazzo ce n'è pochi bravi così purtroppo al giorno d'oggi questo è il disegno in 3d ci fa vedere appunto dove va collocato anche il pezzo vi ricordate questo che abbiamo detto di mettere da parte per il prossimo montaggio che è questo qua in mezzo abbiamo quasi finito ragazzi se non vi siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di iscrivervi iscrivervi che aspettate a farlo e attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video date un'occhiata alla mia playlist vi accorgerete che c'è qualcosa anche lì che potrebbe essere a voi interessante per voi interessante ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque davvero ne abbia desiderio oltre che di potermi seguire con le immagini di riuscire anche a comprendere i contenuti verbali sapete che Michele non è un canale come gli altri non è migliore degli altri attenzione è differente perché ha deciso non soltanto di dedicarsi al semplice montaggio ma a creare delle soluzioni per migliorare la funzionalità e la stabilità dei modellini in più cerca di seguirvi per evitare che possiate fare degli errori e danni che chiaramente comporterebbero una spesa in sostituzione dei pezzi e comunque anche un disagio in tempistiche poi per poterli riottenere quindi ragazzi anche per questo motivo iscrivetevi al canale di Michele Armonica nella prossima uscita costruisci la seconda parte dell'addome ecco qua ragazzi Michele vi saluta augura a voi e a tutti i vostri cari e più cari una serena serata sono ormai le 5 e mezza quasi 6 del pomeriggio e quindi vi auguro una serena serata un abbraccio a tutti ragazzi e arrivederci al prossimo filmato grazie di avermi seguito grazie delle visualizzazioni grazie per aver dato e continuato a dar vita al mio canale un abbraccio ciao ragazzi grazie a tutti